Grazie e buonasera a tutti. Continuiamo stasera questo nostro viaggio attraverso il mondo del trading online e degli investimenti online. Abbiamo visto nella scorsa pillola informativa come non sia vero ciò che a volte anche la televisione nazionale fa che il trading online sia un'attività di tipo truffaldino, cioè oggetto di vendita e risparmiatori da parte di soggetti che vogliono soltanto truffarli. Il trading abbiamo visto è un'attività seria e fruttuosa, redditizia, se svolta con serietà. Abbiamo visto qual è la prima regola che bisogna osservare per riportare il trading nella sua fisiologia di attività redditizia e non di attività appunto attraverso la quale si perdono i capitali per opera di alcuni truffatori. Questa è la patologia. E la prima regola abbiamo visto è scegliere un buon broker online. La prima regola è scegliere un broker online che sia regolamentato e che abbia ottenuto dall'autorità di vigilanza del paese in cui assede la licenza, l'autorizzazione, cioè ad operare sui mercati finanziari. Abbiamo anche visto che questo potrebbe non bastare. E perché? Aiutiamoci come al solito con l'aiuto di alcune slide. Il trading online quindi non è soltanto truffe, bisogna scegliere un broker regolamentato ma attenti alla sede. Questa è la seconda regola che dobbiamo rispettare perché non è detto che un broker regolamentato sia un broker del tutto affidabile. E questo succede perché ci sono paesi anche in Europa che hanno una regolamentazione più blanda che in altri paesi e nei quali dunque la licenza si ottiene in modo molto facile, molto semplice e ciò ovviamente a discapito di ogni garanzia per i risparmiatori e gli investitori. Per esempio Cipro oggi offre la migliore soluzione in termini di prezzo e qualità per ottenere la licenza di broker finanziario. Inoltre Cipro oggi è nella comunità europea, nell'Unione europea e quindi avere una licenza di broker finanziario rilasciata dalla CISEC, che è l'autorità di vigilanza di Cipro, consente di operare come broker in tutta Europa in libera prestazione di servizi. Però dovete sapere che molti broker, anche non regolamentati, hanno sede a Cipro. Prima dell'entrata nell'Unione europea, infatti, lo Stato era da considerarsi un paese in blacklist e dunque una sorta di paradiso fiscale, ma anche broker regolamentati hanno sede a Cipro ed operano oggi secondo le normative europee. Tuttavia ci sono dei soggetti, anche operanti con licenza, che sono i cosiddetti broker forex e CFB. Ci sono oggi centinaia, più di 300, si calcola, di broker forex e CFB, o che offrono strumenti anche legati alle opzioni binarie, o, lo vedremo anche in seguito, strumenti connessi con altre tipologie di trading che bisogna assolutamente evitare. Questi broker forex e CFB hanno sede a Cipro, operano come società di investimento, le cosiddette CIF, Cyprus Investment Fair, ai sensi nel regolamento della CISEC. Tuttavia la CISEC presenta delle linee guida per la regolamentazione relativamente semplici, oltre a un processo di approvazione molto rapido che permette ai broker con licenza CISEC di aprire una sede a Cipro con formalità anche minime. Non soltanto, la CISEC è benevola verso il broker anche in termini di multe o sospensione delle licenze. E questo è un fattore, vedete, che ha attirato molte critiche da ogni parte del mondo, specialmente da altri membri dell'Unione Europea e dalle loro agenzie di regolamentazione. Il broker forex e CFD con licenza CISEC hanno adottato allora delle pratiche finanziarie illecite e perpetrato frodi, cosa che aveva portato i clienti a perdere milioni di dollari ogni anno. E ciò ha costretto la CISEC a riformare i propri orientamenti normativi per garantire che tutti i broker forex e CFD regolamentati rispettino le leggi. Ora un tantino più severo al fine di proteggere i fondi e gli interessi dei clienti. Però guardate, anche questo potrebbe non bastare. Ci sono infatti esempi di broker ciprioti che sono stati sanzionati dalla stessa Consob nel nostro Paese. Per ben due volte, infatti, all'inizio di quest'anno, a cavallo appunto tra 2019 e 2020, la Consob ha adottato provvedimenti cautelari, se ben ricordo confermati in entrambe le ipotesi in via definitiva contro due famosissime società di investimento cipriote, molto note anche in Italia, Paese in cui operavano. Queste società avevano adottato comportamenti in violazione delle normative di genito, malgrado le misure già adottate nei loro confronti dalla CISEC su esplicita richiesta da parte della Consob. Erano giunti infatti all'autorità di vigilanza diversi alert da parte degli investitori italiani, in relazione soprattutto alla vendita di SIEP-D, di cui già la Consob aveva molto ristretto e regolamentato la vendita nel nostro Paese. Ebbene, in questi due casi della Consob contro le due società cipriote, le lamentele dei trader facevano riferimento a circostanze note a chi purtroppo subisce delle truffe. La perdita totale del capitale investito, l'irregolarità nella classificazione della clientela, cioè dei poveri investitori retei venivano classificati come professionali, appunto con la finalità di poter vendere strumenti rischiosi, l'applicazione di tecniche di marketing aggressive. Questi sono degli indizi, guardate, che è appunto soprattutto l'applicazione di tecniche aggressive di marketing attraverso internet, attraverso il telefono, che bisogna mettere subito sotto attenzione e di cui bisogna subito difidare, perché sono gli indizi di un'attività di truppa che si sta perpetrando nei confronti dei malcapitati. Dunque, seppure in via cautelare, la Consob, ma penso che poi, ripeto, i provvedimenti siano stati confermati nel merito, ha vietato proprio in ragione delle circostanze che ho appena detto ai due broker di prestare i propri servizi di investimento in Italia. Dunque succede che questi broker non possono più sollecitare o acquisire in Italia nuova clientela, né possono proseguire i rapporti con i clienti già acquisiti. I broker quindi hanno dovuto chiudere i conti della clientela italiana secondo le indicazioni che sono state impartite dagli stessi utenti. Anche per stasera, quindi, abbiamo finito, ma il discorso non finisce qui. Ci sono altre regole che bisogna osservare per essere sicuri di imbattersi in broker seri, quindi non soltanto regolamentati, non soltanto autorizzati, ma che siano sostanzialmente affidabili, e di queste regole ne parleremo nei prossimi video. Continuate a seguirmi, allora. Io per ora vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Linea alla regina.